Questa meravigliosa mela è della varietà Pink Lady, una delle tante varietà che si coltivano qui in Romagna. Siamo in provincia di Ravenna, siamo proprio durante la raccolta delle mele, come vedete alle mie spalle. Stiamo registrando uno degli episodi della nuova stagione di Agrinet, il futuro in campo. Il progetto dedicato all'agricoltura sostenibile, il progetto cofinanziato dall'Unione Europea, che quest'anno ha un indirizzo particolare, cerca di studiare il ruolo delle donne in agricoltura. Infatti il nome evocativo del progetto di questa edizione è Agrinet for Women. Andremo a girare quindi otto puntate in giro per l'Italia. Andremo però anche a girare otto talk show realizzati in collaborazione con alcuni emittenti del circuito Corallo, delle televisioni locali che collaborano al progetto, che sono oltre naturalmente a Icaro TV, Tele Belluno, TVL e TV Libera in Toscana, Tele Nova in Lombardia e Tele Radio Pace in Liguria. Realizzeremo anche otto puntate radiofoniche e poi un evento finale l'estate prossima a Roma. Il progetto è realizzato in collaborazione con Conf Agricoltura Donna e l'Università Uav di Venezia. I nostri partner tecnico-scientifici. Il progetto, come ogni anno, va a mettere in luce quelle che sono le criticità del settore e come gli imprenditori agricoli moderni, in questo caso le donne, affrontano queste sfide. Grazie. Grazie.